Loredana Lecciso Dichiarato ufficialmente guerra all'ex moglie del compagno Albano Carrisi, Romina Power, che da tempo ormai pubblica dei post sui social alquanto provocatori e nostalgici, ed annuncia pubblicamente azioni legali contro la figlia della star di Hollywood Tyron Power per aver pubblicato un post lesivo della sua immagine, la storica compagna del Leone di Cellino San Marco. Non ce la fa più a sostenere il pressing mediatico e le continue frecciatine lanciate dalla Power che, non curante del fatto che ormai, l'ex marito si è ricostruito una vita insieme a Loredana dopo il loro divorzio, pubblica sui social e rilascia dichiarazioni che lascerebbero intendere un'apertura per un possibile ritorno di fiamma. Ma con l'ex marito, Loredana Lecciso agirà legalmente a tutela della propria immagine nei giorni scorsi è apparso sui profili social di Romina Power un post che rappresentava uno screen di un messaggio pubblicato da un profilo a nome Loredana Lecciso, in cui si commentava la notizia della presunta gravidanza di Christel Carrisi. Tanto è bastato, erroneamente, per far incorrere Romina nell'errore di credere che fosse stata realmente la Lecciso a scrivere quelle parole. Dopo poche ore dalla pubblicazione del post di Romina, Loredana ha fatto sapere che quel post non era suo e con tutta evidenza qualcuno le aveva rubato l'identità, motivo per cui ora ha deciso di agire per vie legali non solo contro chi Ha commesso il fatto, ma contro chiunque continui a ledere la sua immagine a danno dei suoi interessi, insomma, Loredana ora è pronta a scendere in campo per tutelarsi e tutelare anche quei due figli avuti da Albano Jasmine Albano Junior che sono schiacciati dal pressing del gossip nazionale, a cui si aggiunge anche quello dei social network. Per fare ciò Loredana ha dato mandato agli avvocati Giorgio Greco e Nicola Bove, che hanno già diremato un comunicato in cui sottolineano il fatto che sul profilo della Power sia apparso un post diffamatorio e lesivo dell'immagine della loro assistita, inoltre, aggiungono i legali, si sono divulgate delle informazioni false non provenienti dalla Lecciso, probabilmente frutto di gnoti, che hanno rubato l'identità della giornalista. Una cosa gravissima, che ha turbato con tutta evidenza la serenità della Lecciso, che ora ha dichiarato guerra a tutti, Romina Power compresa.